Massimiliano Mecozzi, il medico omeopata indagato dalla Procura assieme ai genitori per la morte del piccolo Francesco Bonifazi, sette anni di Cagli, a causa delle conseguenze di un'otite curata solo con rimedi omeopatici, risponde alle domande postegli dall'Ordine dei Medici, non di persona, ma affidando la sua verità ad una memoria scritta da ieri in possesso del dottor Mattistini, il presidente dell'Ordine dei Medici. La linea difensiva dell'omeopata la prospetta il suo legale, l'avvocato Enzo Carella, secondo il quale il suo assistito non ha mai impedito ai genitori del bimbo né di andare all'ospedale e neppure di prendere farmaci convenzionali. Fatto sta che nella tragica notte del suo ricovero, egli parlò con il medico del 118, che a luna di notte arrivò in casa dei Bonifazi perché il piccolo Francesco versava in uno stato di semi-incoscienza, il quale gli disse che il bambino era in codice rosso per gravi deficit neurologici. Ed è stato proprio il dottor Mirko Volpi del 118, nella mattinata di oggi, a spiegare al presidente dell'Ordine quanto accadde in quei convulsi minuti nella casa dei Bonifazi, con la madre che gli passò il cellulare per parlare con il mecozzi, perché non sapeva che cosa fare. Questa mattina abbiamo sentito il collega Mirko Volpi, che si è reso disponibile a collaborare con l'Ordine dei Medici. Abbiamo avuto un'audizione di circa tre ore, in cui il dottore ci ha spiegato come sono andati realmente i fatti. Adesso abbiamo in programma, venerdì, su richiesta dell'avvocato della famiglia di Francesco, abbiamo in programma l'audizione dei parenti. Quindi, come vedete, stiamo continuando le indagini per quello che possiamo fare in attesa di raggiungere il clou con la convocazione della commissione medica, che sarebbe la commissione di disciplina dell'Ordine, che si riunirà probabilmente mercoledì della prossima settimana. Ancora non l'abbiamo convocata, perché chiaramente aspettiamo di sentire i parenti del piccolo Francesco. Grazie a tutti.